Il prefetto di Kaltanissetta, Chiara Armenia, ha incontrato la presidente dell'organizzazione di volontariato contro tutte le violenze, Aurora Ranno. Nel corso dell'incontro si è discusso di una serie di iniziative e interventi da realizzare per creare delle attività sia di carattere formativo e anche conoscitivo per il pubblico su argomenti di grande attualità quali la prevenzione e il contrasto della violenza di genere e la promozione della cultura delle pari opportunità. Argomenti da rendere sempre più attuali, secondo Armenia e all'interno delle scuole in collaborazione con le forze dell'ordine, le autorità e le istituzioni di settore. In progetto anche la realizzazione di un protocollo istituzionale tra la stessa prefettura e l'associazione di volontariato nell'ottica della realizzazione a Kaltanissetta di uno sportello di ascolto per i casi di violenza e discriminazione. Ringrazio il prefetto Armenia e tutto lo staff della prefettura di Kaltanissetta per la sensibilità e l'interesse con il quale hanno ascoltato le nostre proposte operative e per questo motivo ha affermato la presidente di Contro tutte le violenze Aurora Ranno, sarà immediato e costante il nostro impegno nel contribuire al potenziamento delle nostre attività, nel rispetto di una logica di rete e collaborazione interistituzionale necessaria per garantire diritti e tutele a chi ancora oggi ne risulta privo.